Mario Balotelli, famosissimo calciatore italiano ha una bellissima sorella di nome Abigai. Età, carriera e curiosità sulla modella. Mario Balotelli è stato per un decennio uno dei calciatori più noti e chiacchierati d'Italia. Gli sportivi hanno discusso del modo in cui ha dilapidato un talento straordinario, mentre gli appassionati di gossip si sono concentrati soprattutto sulle sue vicende sentimentali. Cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, Balotelli ha esordito in prima squadra grazie alla stima dell'attuale commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ancora teenager. Sin dal primo incontro si è compreso che eravamo di fronte ad un talento grandioso e per un paio d'anni si è sperato che Mario potesse diventare il leader tecnico della Nazionale. Le cose sono andate diversamente per via di un carattere non facile da gestire. Alla lunga Balotelli faceva innervosire tutti i suoi allenatori e le sue prestazioni tendevano a calare. Alla fine, quindi, le notizie sulla sua vita privata hanno preso il sopravvento sulle sue gesta sportive. Nel corso dell'ultima edizione del Grande Fratello VIP, abbiamo avuto modo di conoscere il suo fratello di sangue Enoch. Il ragazzo aveva intrapreso anch'egli una carriera da calciatore, ma con molte meno luci del fratello. Grazie ad Enoch abbiamo conosciuto il lato tenero di Mario, l'affetto che nutre per i fratelli e la sensibilità che lo contraddistingue. L'ex Gieffino, tuttavia, non è l'unico parente famoso di Balotelli, la sorella Abigai, infatti, è una modella di fama internazionale ed è stata anche una protagonista della TV italiana. Nata in Ghana nel 1989, un anno prima di Mario, Abigai è la primogenita di Thomas Barvua e Rose, con i quali è cresciuta a Bagnolo Mella, Brescia. Dotata di una bellezza fuori dal comune, Abigai è stata notata da Piero Chiambretti nel 2010. Il conduttore l'ha voluta come ospite del suo Chiambretti Night Live, nella puntata del 17 settembre. In quella occasione la giovanissima sorella di Balotelli ha parlato principalmente della carriera calcistica di Mario e del rapporto tra lei ed il fratello. Leggi anche Trattino Maggiore Costantino Novitagliano lo ricordate così? Eccolo oggi a 47 anni, due anni più tardi, nel 2012, è stata scelta come concorrente de «L'Isola dei Famosi», occasione in cui ha avuto un confronto con Raffaella Fico, storica ex fidanzata del fratello e madre della piccola Pia, sua nipote. La partecipazione al reality l'ha resa famosa in tutta Italia e le ha permesso di ottenere un ingaggio per il calendario fotomodelle del 2013. In relazione con Obafemi Martins, ex scalciatore dell'Inter, dai tempi in cui il fratello giocava nell'Inter, Abigai si è sposata con l'attaccante nigeriano ed è diventata madre per ben tre volte. I suoi figli si chiamano Kelvin, Kendrick e Tyler.